Da dove è iniziata? Io? Sì? Diciamo da quando sono nata, è iniziata tutta la mia storia con la musica, perché comunque ho sempre respirato quest'aria, anche a casa mia si faceva sempre questo. Quindi è stato il primo modo di comunicare che ho trovato, forse prima della parola stessa. Infatti si vede perché non so parlare. Un brano che ascolta in loop? Ultimamente ascolto in loop l'ultimo che ho scritto, è un po' egocentrica come cosa e lo so, però posso dire che ascolto in loop un disco, e comunque tutta la discografia di Nao, che è grandiosa. Nel 2122 ci saranno i tour galattici, su che pianeta suoni? Su Marte, assolutamente. La musica è? Oddio ragazzi, è il lavoro. Ed è dedizione. Choose your star warriors. Dalla o comacose? Dalla. Capostela o The Supreme? Difficilissimo, The Supreme, cioè... Mina o dito nella piaga? Mina. Motta venerus? Venerus. Io voglio fare carriera nella mia vita. Mi bloccate all'inizio. Come è andata la serata? Bene, fino adesso bene. Lavoro paurissima. Ti fai un jingle? Vorrei che fosse proprio tutte le sere, la serata musica da bere. E... 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 E...